Non è che sono qui da solo, sono sulla panchina con la sorella di Debra Bandela, chissà mai che è? Avessi detto! Ma tu sempre... Io cerco, tu stai qua! No ecco, vale! E con una ragazzina più piccola, forse certe cose non dovrebbe sentirle, è meglio che non sanno l'italiano evidentemente. Chi ha vinto l'ultima manche per la qualificazione di domani, domani c'è prefinale e... Finale! Bravissima, chi vince e cosa vince? Chi vince, vince la finale! Che vince? Vince la gara! Che vince? Il campionato del mondo! Ha vinto Gary Cat oggi! Qui passa, passa un po'... Tutto bene! Tutto bene, passa! Fa caldo qua, fa caldissimo! Primo Gary Cat, Gary Cat è di cattiveria alla fine ha passato... Cattiveria! Dicevamo Gary Cat? È la delusione del mondo intero! Parla, parla con lui! Tu puoi parlare solo con lui, con lei! Uh, uh! Secondo è arrivato Davide Foret, ho perso le motivazioni. Certo è arrivato Bressan, quarto line, De Brabander, il suo fratello, hanno perso un po' di terreno dopo un inizio interessante. Basta, basta, finita così. Così di tristezza? Chiudi. No, la tua battuta mi ha distrutto. Chiudo? Sono affaticato. Scusa.